Ok, quasi sicuramente sogniamo tra i bici e i trattori No, no, ma un po' mi hanno fatti i complimenti è bellissimo, è bellissimo No, ma... voglio parlare solo cose Aspetta, devo fare 2 urne però una per le stanze, una per i personaggi E' perché? E' un po' piscina? E' un po' piscina, e poi cosa fanno? Faccio prestazione a Kiplitz e poi Buche No, a Buche si fanno dei santi tu, ragazzi Scusami, tu fai 2 più stanze, ma tu due per ogni punto però devi fare due urtine, una devi pescare i nomi e una devi pescare assalto perché sennò pesce i piedi ma nooo, è tutta colpa di Riccardo Villa che viveva così l'ipote di stare non iniziare, non iniziare, non iniziare, non iniziare che uno pesca oi allora, tu sei tutta in un lato parca, quando vanno a fare un po' in su c'è i ragazzi che si aggerano e non vanno a fare in mezzo c'è una volta tanto che ho finito 3.000 fatelli da stanza ma mica è solo per me ecco qua ecco qua guarda, non hai visto giustizia sociale ok, questa è l'urna per le stanze no dai, comincia l'urna, ce l'abbiamo ognuno pesca dove va? vai, altissimi livelli dai è una russa è secca, è secca le avete fatti di dimensioni inequivocabilmente uguali? no vabbè, però tu non lo sai, non te lo ricordo stai fermo, stai fermo, non iniziare non iniziare vai ora facciamo tutto qua facciamo tutto qua ok, vai 3 3 3 8 11 14 19 21 1 2 3 4 5 6 18 19 20 21 vai vai con l'oculo vai con l'oculo apri tu per me, aspetta il maestro Giannini sancirà la mia destinazione qual'è? giovane giovane vediamo bene panoramica grande pudre grande cazzo vai con l'oculo è sicuro? fai l'oculo subito, sicuro ma chi è che l'oculo sarebbe quello? non la matrimoniale si 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 attenzione attenzione il giovane tore non mi chiede più di me vengono 3 vai tore con la panoramica vai spari a l'oculo l'oculo grande nooo attenzione 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 vediamo il villari no 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 ancora niente adesso si saprà esatto la storica e quindi secondo me nel matrimoniale vanno Ciro e Riccardo una coppia di fuoco capito? due bocche di tuono chissà via la panoramica bastardo ah no oh figlia eh vai ho evitato villari quindi significa che dormirò guarda Ciro guarda Ciro guarda attenzione parola ripresa tanto di Ciro guarda attenzione aspetta per il giovane la magna anche lui vi riesce separati secondo me Giovane la magna prende una grande panoramica grande l'oculo secondo me e si vede un ulo un ulo un ulo uo 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 e quindi tu panoramica social mamma mia i piaci visto che io sono per la giustizia io mi sono già sistemato dove se volete una panoramica ci sto io che ci sono anche separati guarda perfetto guarda e quindi con la sorte ha deciso che tu eri in docenza alla aiuto vedi vedi perchè lui aveva messo a zizzania perchè doveva andare nella panoramica non volevo stare vai vai nell'oculo ci siamo peggio ma l'autunno ahahahahahahaha ai no a voi io non miro qua le ci puoi seri no 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 no